Chiede ora di intervenire il deputato Alessio Villarosa, prego deputato. Grazie Presidente. Ministro Padoan, io di lei non mi fido, non riesco proprio a fidarmi, perché lei era al fondo monetario. Deputato Villarosa, mi scusi, ma quel microfono non funziona. Se magari passa davanti... Colleghi, per favore. Ecco, grazie. Usi quello, vediamo se funziona. Prego. Sì, anche prima, infatti. Grazie Presidente. Ministro Padoan, come le dicevo, io di lei non mi fido, non riesco proprio a fidarmi, perché lei era al fondo monetario internazionale, lo stesso fondo monetario che tiene sotto scacco la Grecia oggi.